Oggi parliamo del nuovo marchio che entra a far parte del catalogo di Football Emotion. Sono molto orgoglioso perché parliamo di un marchio totalmente italiano, parliamo del marchio GEMS. Per chi pratica calcio a 5, sia a livello professionistico ma anche a livello amatoriale, conoscerà benissimo questo marchio. GEMS è un marchio come detto totalmente italiano, nasce nel 1979 a Torino in Piemonte e attualmente è uno dei marchi più importanti in Italia appunto per il calcio a 5. Tra l'altro è anche il marchio che fornisce il pallone ufficiale per la Serie A italiana. Introduciamo questo marchio con il suo modello top di gamma, il modello Viper FX. In questo caso abbiamo le due colorazioni attualmente disponibili, la colorazione blu e la colorazione grigia e giallo-fosforescente e non solo avremo a disposizione la suola per la pratica indoor ma anche la suola outdoor con i tacchetti TARF. Scarpa estremamente valida, tomaia in pelle di vitello premium, suola divisa in varie parti per favorire il grip in qualsiasi direzione. Però sicuramente la più grande curiosità può essere quella di analizzare questa scarpa in campo. Quindi via di like a questo video se volete un'analisi direttamente sul campo di questa nuova scarpa, di questa GEMS Viper FX e noi andremo in campo appunto a provarla per voi, ad analizzarla fino in fondo. Quindi via di like, iscrivetevi al canale e diamo il benvenuto quindi a GEMS nel catalogo di Football Emotion. Grazie per la visione!